Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nomissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST. Quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero CROATOMIST. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta shoppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi, ma adesso godetevi questo fantastico video. Reggente? Mi sa che non è contestato stavolta. Non ce n'è nessuno neanche qua. Neanche lì, infatti lo stavo per dire. Quindi l'ultimo ruolo andiamo là, instant tipo. Come c'è un lama? Perché mi ha c***o lo spot? Vabbè, non ce n'è nessuno, ho dato una mano. Oh, portacci, tu a Martina. Non fregare gli spot a Martina. Eh, ma tu avresti trovato una pistola grigia là dentro, non stai dico, bambina. Sì, 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 sì. Quella cassa non ce l'ho mai trovata lì sotto, ormai. Ragazzi, guardate lì. Stavo in gioco. Dopo 22? Dopo 22? Stai fai tanto? Eh, ero un player in singolo. Cioè lì da solo, non so. Ma sono fai tanto. Volete fare third party? Ma perché no? Se ci siate, sì. Io ci sono anche il 700 di mano. Io, io, io ho tutto. 7 mosh però. Arriva, arriva. Vedo un attimo, vedo un attimo. Un'altra big qua, la lascio. Big? Scudone? Eh, io l'ho già fatto il mio. Quanto siete lontani da me? Ok. Sono tanto distante io, arrivo dal flank sinistro. Eh, io, io, io. Ho fatto 135 alla skin bianca. Quanto siete buttate in acqua, ho fatto buttate in acqua la skin bianca. Vabbè, sono il nord-est. Un ruscello. Ce lo vedo. È velocissimo, cazzo, è un delfino. Di te, testo. Questo me lo becco davanti, me lo becco. 100-100. Lascio granate per terra. È qua davanti a me, sì. Banco knight, 20 bianco. Not crazy. Si sta scudando, si sta scudando dietro il metallo. Lord, push. Eccolo qua. Porto. Mettete dove è bianco? Neid. Ti tiro una benda, ti tiro una benda. White, un colpo. Gol, go, go. Vieni, vieni. Adesceva anche il mattone, muscia. Vieni, vieni, sotto di noi, sotto di noi, sotto di noi. Ci vanno da solo. 8 granate. Dove? Sotto. Stavo cechinato, spingalo. Oh, elchiot l'ho rotto, granate. Neid. Una porse è entrata, una porse è entrata. Bianco, 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 bianco. Stanno provando cechinaci da là. Funcionato di me da dietro, eh. Dietro, dietro. Tentate il blu. Tentate di nuovo. Entra una granata, entra una granata. Torriamo sopra, torriamo sopra, torriamo sopra. Torriamo sopra, raga. Vai, c'è il quaggianto di mattone. Io uso il legno. Ho la scala per salire, eh. Io uso il legno. C'è un team, c'è un team. Ci sono stati noi. Ma togliamo la nostra posizione. Sì, sì. Siamo giotto a fronte. Ok. Ti ha usato tutto il legno. Ha avuto il legno, bravo. Tanto edit, Fes, tranquillo. Ah, sì, li vedo. Forse nel check-in uno, se sta fermo. Ah, stanno affidando. 47. Fesco. Ti hai preso? Che c***o sei con lo sniper? Fammi capire. Quello che non stai sento sicuramente, Fes. Eh, vabbè, punto. 23 blu, quello sopraffine di rosso. Ma stanno fightando, stanno fightando. Guardate, ragazzo. Guardate, facete. Guardi, merda. Di tre, rotto shield. Uno, sto facendo dalla zona. Uno, sto facendo dalla zona. Ho rotto shield, quello sopra al pieno. Vai, fai lo sniper abusivo. Eh, è acceso. Non c'è. Eh, vai, va. Ti voglio... 63 in lobby. Vogliamo il darmi o... Stiamo a prendere una buona posizione? Stiamo a prendere una buona posizione. Stiamo a prendere una buona posizione. Non ammose, eh? Sì, non vorrei che shieldasse qualcun altro. Almeno prima di questo abbiamo posizione. Può metterci... Allora, davanti a noi, davanti a noi. Ai dito no? Occhio, mouche. Oh, no, no, no. Sì, sono per me, sono per me. Avanzerai, in realtà. Avanzerai, venite, venite. C'è un team sul fiume, occhio. E' un RPG, ragazzi. Lasciato me a ticket, no. Oh. Oh, va va. Focchi nader, focchi nader. Mi sta pushando uno. Mi sta pushando questo. Ale, vettamene mano. Guardate, anche a 195. Quello con la cilazzo l'ha hittato. Oh, che fanno. Magari poi era pezzo a noi. Per noi, per noi, per noi. Ale, su tu. Sì. Sì, ragazzi, bianco, bianco, bianco. Laura, skin. Ragazzi, mi sono venuti in zona. Subito. Dovremmo muoverci. Alex, tu ti sta pushando da dietro? No, no, è vicino, è vicino. È una zippata. Sta per consigliare. Vieni sopra, vieni sopra, vieni sopra. Dovremmo essere tre trello. No, sono quattro, sono quattro. Stanno pushando? Regà, io ho una ping. Non so perché pusha. Ma non ho pure. Regà. Ho uno zoppi. Andiamo in zona, andiamo in zona. No, ti va mini, Alex. Mi ha uno, io. Pronti? Ma perché voglio usare questo? Come di loro dobbiamo andare via? Eh, no, andati loro. Seguiamole loro. Andiamo da sopra, Alex. Andiamo da sopra. E' ok? Uno sopra, uno sopra, uno sopra. E' morto. Occhio sopra, occhio sopra. Non finirlo. Eh. Andiamo uno sopra, ragazzi, mi raccomando. Sono a mazzo qua, ragazzi. C'è dove di fio di legno? Tornigliamo, tornigliamo. Tornigliamo, abbiamo un bacio di legno. C'è dove le ho ucciso io, c'è. avete ragazzi avete ragazzi io ho scompa quello già lento riprendi di alex che ne sono pure tieni prendi io ragazzi io sono un mini come cura io pure un mini ho dieci granate se volete retta 5 retto scelto, retta 5 pianto sopra di noi, sopra di noi, sopra di noi, sopra di noi ragazzi e qua sopra guarda, vedete qua, vedete qua, vedete qua lo lasciamo insieme guarda, guarda, guarda qua sopra ve l'ho detto, ve l'ho detto anzi no, oddio se lo facciamo cadere prendiamo like è quello che dovremmo fare se non è saliamo è uno, dovrebbe essere uno perchè non mi vai infatti è quello che farei dobbiamo busciare like ragazzi tipo i alex a sinistra di qua, di qua a destra andiamo alex roda una 3.30 ok sa uno bianco bianco di bianco ragazzi è bianchissimo è bianco il mio pink è bianco in quel box di mattone bianco di nuovo lì sotto lo so lo so lo so ah ragazzi io butto 10 che andate lì sotto mi sa forse la faccio vado eh stanno butando fuori sei cazzo hit a 2 una scelta spruccia finito l'ho finito l'ha di sotto l'hi sotto forse vedi la kill un altro ha fatto per scelta blu è un tipo in acqua forse lo hit hit a 2 da 2 dopo hit doppietti lì sotto la salate di ragazzi lo accade un altro bloccato un altro madre di dio è bianchissimo è bianchissimo ragazzi un altro bianco tutti portate bianco lì dentro lo vedo lo vedo sono qui sotto no non è stato ragazzi i colpimenti li sto quasi minendo io bianco 30 27 io basta questo ma sto morendo io hai lo sparavendo se non muoio no non ce l'ho io scendo io scendo come stai guardando c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è c'è uno 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 c' io te l'avevo collato ma